. Vergognoso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser obbligati dal GFVP a stare vicini? Ecco l'ipotesi foto, video. . Al momento il triangolo Cecilia-Ignazio-Francesco Monte è quello che tiene banco nella casa, Monte è stato anche fuori dalla Porta Rossa, gridando frasi d'amore ma anche richieste di chiarimento con un megafono per farsi sentire da Cecilia. . . All'origine dei sospetti dei telespettatori, un diktat del grande fratello, che ha chiamato Ignazio e Cecilia in confessionale insieme e poi li ha obbligati a lavare i piatti insieme da soli, senza poter essere aiutati dai compagni, è stata la stessa Cecilia a dirlo agli altri e a quel punto è nato il sospetto che dietro la storia ci sia una regia o che almeno si cerchi di favorire il più possibile la vicinanza fra i due. . . . Cosa ci sarà di vero? Quella del lavaggio dei piatti potrebbe essere stata anche una punizione del GF per Cecilia e Ignazio che magari avevano combinato qualcosa insieme, oggettivamente i due di tempo insieme ne passano molto. . . Staremo a vedere eventuali e nuovi sviluppi. . 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